buonasera a tutti buonasera a Matteo in collegamento stasera diciamo prima dell'estate che non faccio puntate di questo tipo diciamo un po' sul serioso di solito parla anche di cose un attimino più leggere e stasera avevo l'occasione di intervistare Matteo Grasso che è il direttore dell'istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Pistoia perché qualche mese fa è uscito il suo ultimo libro che è questo che ho letto molto attentamente e che ho trovato estremamente interessante quindi Matteo benvenuto e sei giovanissimo diciamo perché una cosa che salta all'occhio di te quando si parla di resistenza comunque di direttori o di cose di questo genere si vede sempre persone di un'età diciamo un po' più tipo la mia anche oltre molto della mia e invece te sei un ragazzo e parla un po' di da quanto tempo è che che fai parte dell'istituto? senti io sono entrato nell'istituto praticamente dopo la laurea triennale nel 2013 e da lì ho iniziato a collaborare sia con la rivista dell'istituto sia all'interno del consiglio direttivo e nel giugno del 2016 avremo 25 anni ancora hanno deciso di nominarmi direttore dell'istituto un incarico appunto che porta avanti ora siamo già al quinto anno e porta avanti con passione con grande dedizione e con lavoro anche perché dietro c'è un lavoro enorme dietro un ente come il nostro un ente di ricerca storica un ente di conservazione bibliotecaria di conservazione archivistica per cui il lavoro da fare diciamo è mezzo e nel frattempo ci si dedica anche appunto alla ricerca storica a queste pubblicazioni ecco questo è il è il tuo primo lavoro come libro? no in realtà no sono già arrivato mi sembra al quinto libro proprio tuo personale? sì ne ho fatti già diversi perché ho scritto nel 2015 e 2017 su un partigiano di Pistoia e su un internato militare sempre erano di Montale entrambi e poi abbiamo pubblicato un volume su luoghi della memoria in provincia di Pistoia un volume con altri tre autori poi un volume intitolato Tesori in guerra con Alessia Cecconi un volume che ricostruisce è uno dei volumi più belli e che mi ha più appassionato perché ricostruisce praticamente lo sfollamento e lo spostamento delle opere d'arte pistoiesi la loro distruzione si ricostruisce appunto quello che è stato il patrimonio artistico durante la guerra a Pistoia e poi ho pubblicato altri articoli altri saggi vari e questo è la mia ultima ecco monografia allora questo voglio dire ora mi informo per bene perché ti conosco da anni probabilmente non mi era mai capitato nulla tra le mani nonostante nonostante ti conoscessi ti mando anche gli altri volori a qualcuno esaurito però Tesori in guerra te lo mando volentieri che questo qui è edito dalla Pascini Editore molto interessante su Pistoia e bombardamenti aere il salvataggio del patrimonio artistico le distruzioni tutto quello che hai fatto si trova sul sito dell'istituto giusto? si si trova anche sul sito dell'istituto e poi è reperibile comunque anche i volumi sono quelli non esauriti sono ancora in vendita si trovano online sui siti perfetto benissimo passiamo all'ultimo che è in guerra totale guerra totale in Val di Nievole musulmano terme tra occupazione nazista resistenza e liberazione dal 43 1983 e 1944 ecco l'autunno del 43 l'estate del 44 e più della metà delle bombe scaricate sull'Italia centrale è caduta in Toscana ho letto che hai scritto sì qui diciamo sta proprio il nodo della guerra totale la guerra che arriva sul territorio perché fino al settembre del 43 all'arrivo dei tedeschi sul territorio toscano diciamo che la guerra si viveva più a distanza anche nel nostro territorio perché i bombardamenti erano sì iniziati sull'Italia ma coinvolgevano alcune grandi aree industriali le città portuali e non avevano colpito ancora i territori del Pistoiese e altri territori toscani una delle città più bombardate ad esempio era Livorno proprio come area portuale e i soldati venivano mandati in guerra su altri fronti li abbiamo in Francia in Russia in Jugoslavia in Grecia ma sul territorio appunto non abbiamo questa presenza della guerra la guerra invece arriva nel settembre del 43 e è in quel momento che arrivano i tedeschi e iniziano anche bombardamenti alleati nei nostri territori Pistoia ad esempio viene colpita cinque volte ma viene colpita anche Pisa Firenze alcune aree del Senese la zona di Glosseto gli obiettivi sono chiari si cerca di colpire le zone industriali ad esempio a Pistoia si cerca di colpire le officine San Giorgio a Ponte d'Era la Piaggio le acciaierie di Piombino sono tutti obiettivi strategici e fanno parte di questa complessa strategia da parte degli angolo americani di colpire questi obiettivi oltre questi si cerca anche di colpire le vie di comunicazione e la Toscana rimane proprio nel centro di questa morsa perché si trova fra la linea Gustave e la linea gotica fra l'autunno del 43 e l'estate del 44 per cui appunto più della metà delle bombe vengono scaricate proprio sull'Italia centrale proprio in questo territorio tra l'altro Monsummano invece visse anche e la Val di Nevole in generale un particolare tipo di bombardamento perché questa zona non appenderò mai dei peri bombardamenti con gli aeroplani ma veniva cannoneggiata perché gli alleati si trovavano nel luglio del 44 al di là dell'Arno e sparavano queste cannonate cercando di colpire obiettivi tedeschi ma il più delle volte colpivano i civili naturalmente c'è ho visto una foto che a me ha colpito tantissimo e probabilmente aveva colpito anche altri che l'hanno visto che è questa cerco di farla vedere questa cos'è questa Matteo? Sì praticamente sono due foto di una rarità unica perché rappresentano un funerale nazista alla Grotta Giusti di Monsummano e all'interno di questa foto quella che inquadri è presente il generale Albert Kesselring generale comandante di tutte le forze armate tedesche nella penisola italiana e in quel periodo si trovava Monsummano il periodo è quello fra inizio giugno e metà luglio del 44 è proprio il momento in cui vengono emanate anche le direttive antipartigiane che poi danno il via alle stragi alle stragi di civili sul territorio di Toscano praticamente Kesselring cosa dice in queste direttive che si assume le responsabilità di eventuali eccessi e violenze da parte dei propri soldati sulla popolazione in sostanza e sono in foto secondo me bellissime anche perché è stato difficile recuperarle lo trovate fra l'altro ce l'aveva in casa un cittadino mozzumanese che si ricorda di averle ricevute prese da un museo situato nel nord Italia in maniera generica per cui non sappiamo queste foto come hanno fatto ad arrivare in Italia sicuramente sono scattate da tedeschi perché comunque si tratta di un funerario nazista però è una curiosa vicenda che poi si è arrivata appunto nelle mani di un cittadino mozzumanese e da lì attraverso le mie ricerche sono riuscita a recuperarlo ecco io come appassionato di storia come sai dico spesso alle persone se avete nonni o parenti o comunque persone che hanno vissuto la guerra a volte sono in possesso di cose o di oggetti di un valore incredibile anche dal punto di vista culturale e chiedo sempre alle persone di portarle almeno alla luce o di farle conoscere attraverso istituti come il vostro o cose del genere stragi in Toscana sono 4438 vittime in 817 episodi che sono un'enormità esatto i dati sono tratti dalla recente ricerca dell'Atlante e delle stragi nazifasciste e la Toscana è la seconda regione più colpita in Italia la prima è l'Emilia Romagna con 4500 vittime e la seconda è proprio la Toscana l'Emilia Romagna che fra l'altro ha fra le stragi annovera anche Marzabotto poi la Toscana invece è colpita perché si trovano tre delle cinque stragi più grosse in Italia è una scia di sangue che parte a fine giugno del 44 con Civitella in Baldichiana poi raggiunge Sant'Anna di Stazzeva il 12 agosto e infine il Padule di Fuscecchio il 23 agosto oltre le stragi più grandi sono queste tre poi Marzabotto e le Fosse Ardiatine a livello a livello italiano e sono numeri impressionanti perché oltre alle vittime in tutta Italia saranno circa 23.000 le vittime civili abbiamo anche poi la distruzione di intere famiglie di interi nuclei familiari ne è un esempio l'Ampante il Padule di Fuscecchio persone che poi hanno visto perdere hanno perso fratelli sorelle genitori nonni per cui questa disgregazione totale delle famiglie colpite persone che poi durante tutta la vita i superstiti sono diciamo hanno ricordato sempre quello che hanno vissuto in questo periodo per cui secondo me la maggior parte dell'attenzione va posta anche su questo sulla disgregazione proprio delle famiglie e un altro aspetto connesso a quello delle stragi di civili oltre ai semplici numeri che non rendono giustizia naturalmente sono anche quelle delle violenze connesse a questi episodi ovvero gli stupri gli incendi i saccheggi perpetuate dalle truppe naziste spesso quando evate anche dai fascisti certo ora ripensavo all'ecidio del Padule che conosci meglio mi veniva in mente quello che mi diceva Remo Mazzei che è il vicepresidente del del comitato onoranze delle vittime del Padule di Fucecchio che dice dopo la guerra era era terribile perché anche le cose più banali più semplici tipo tornare la sera a casa e essere lì a cena e manca mancano i fratelli manca il padre manca la madre magari ci sono solo i nonni è una cosa che è devastante poi alla fine e a proposito del Padule di Fucecchio ci tenevo insieme a te a raccontare due cose una che è il Sereno Romani se mi puoi raccontare un attimino e raccontiamo anche agli spettatori poi un'altra che ti dico dopo sì quella di Sereno Romani è una delle strage che avviene nel luglio del 44 a Monsummano qualche settimana prima dell'eccidio del Padule di Fucecchio e la casa di Sereno Romani si trova proprio ai margini del Padule si trova in una frazione di Monsummano a Cintolese e la classica casa colonica in cui sono presenti lui suo fratello le sorelle le figlie i genitori per cui classica famiglia allargata colonica probabilmente erano mezzadri nella Toscana anni 40 e all'interno di questa casa colonica una sera alcuni soldati tedeschi vanno per cibarsi e per bere dopo aver bevuto parecchio iniziano a opportunare alcune delle donne presenti in famiglia e la loro insistenza è forte arrivano quasi a violentarli per cui il fratello di questo signor ucciso Ugo Romani impugna un pennato e sgozza uno dei tedeschi ora le fonti sono di scordi se l'ha ucciso se l'ha solamente ferito i tedeschi scappano e ritornano in forze che cosa succede? la famiglia sapeva benissimo che i tedeschi sarebbero tornati per cui scappano tutti Sereno Romani non può scappare perché ha una manovazione fisica per cui è impossibilitato proprio a fuggire in casa trovano solo lui fanno parecchia violenza su di lui sul suo corpo infine lo impiccano al granaio della casa colonica e i suoi familiari lo ritroveranno così impiccato in questa qua nel dopoguerra fra l'altro ci saranno anche delle investigazioni da parte del Sib britannico Sib era lo special investigation branch ovvero il settore di investigazione appunto britannico che si occupava delle stragi connesse ad alcuni territori in Italia e all'interno di questa indagine intervistano proprio Ugo Romani fratello di Sereno e gran parte di di quanto raccontato deriva dalle sue dichiarazioni ho capito un'altra che conosciamo insieme e che ci tenevo a parlare di lei anche per rendere gli ormaggio è la Tosca Tosca Lepori che vive un un inferno il 23 d'agosto ma anche anche poi successivamente eh sì Tosca Lepori che se non sbaglio è nata nel 1939 e aveva solamente quattro anni perché non aveva ancora compiuto il quinto anno di età e una volta eh lei si trovava in Padule con la mamma con il fratellino con i nonni e eh era una delle tante famiglie eh sfollate in quel periodo o contadini o sfollate che si trovavano in Padule perché Padule pululava di contadini e di scollati non c'era una grossa presenza partigiana erano presente solamente una trentina di partigiani nella zona di Ponte Bugianese che è uno dei comuni a margini del Padule ma eh la maggior parte appunto erano civili che poi saranno le persone colpiti durante la strage Tosca era uno di queste e la sua mamma cosa fa? Quando inizia a sentire gli spari e le uccisioni da parte dei tedeschi nasconde Tosca e suo fratellino all'interno di un tronco d'albero li mette lì dentro cercando di salvare a fine strage eh Tosca uscirà intatta da questo albero mentre il fratellino uscirà con parecchie ferite viene portato in ospedale e poi purtroppo in ospedale morirà fra l'altro Tosca io l'ho intervistata anche diverse volte la conosco benissimo una persona di una lucidità unica e questa strage ha segnato completamente la sua vita perché poi è stata costretta a vivere col babbo e con la matrigna se non sbaglio e una vita piegata dal dolore perché si ricorda benissimo la sua mamma che viene uccisa si ricorda i nonni che escono dalle capanne incendiate e si ricorda del suo fratellino morto per cui una vita segnata ecco da questa vicenda sì parliamo oltre che dei tedeschi anche dei collaborazionisti con i tedeschi eh sì diciamo che nel Padule di Fucecchio al pari anche delle altre stragi come ad esempio Sant'Anna di Stazzema Marzabotto sono stati riconosciuti fascisti italiani toscani che hanno accompagnato i tedeschi all'interno del Padule sono stati fatti anche nomi e cognomi perché sono stati riconosciuti sia dalle vittime sia dai superstiti sia anche eh dal dalle investigazioni appunto del Sib britannico che furono svolte nelle dopoguerre ci sono nomi e cognomi di chi presumibilmente ha preso parte a questa strage tra l'altro alcuni fascisti sono stati riconosciuti anche da Vittoria Tognozzi che conosci bene anche te di un suo umano da alcuni superstiti di Ponte Buggianese cioè ogni comune aveva dei fascisti che accompagnarono queste pattuglie all'interno del Padule e in sostanza non fu nel dopoguerra non furono fatti i processi contro di loro molti tornarono alla propria vita alcuni se li ritrovarono addirittura come vicini di casa altri non si sono più fatti vedere nel comune in cui abitavano e anche la Vittoria mi ricordo che mi ha raccontato che vedeva tutti i giorni un signore che aveva preso parte alla strage cioè che aveva preso parte come fascista per cui anche questa è una delle classiche vicende che poi nel dopoguerra è stata messa a tacere sì sì è il modo come lo racconti nel libro che colpisce e un'altra domanda del che mi viene che mi è venuta leggendo le pagine ecco gli stupri si sa in modo approssimativo quanti possono essere state in che modo diciamo così generalmente senti in Padule ho riscontrato un solo caso è quello di Anita Silvestri nella zona di Larciano ci sono state due testimonianze nel dopoguerra una da parte del fidanzato e una da parte di un'altra ragazza che si trovava superstite che si trovava nella casa dove fu colpita e entrambi il fidanzato riferisce di averla trovata in uno sgabuzzino con le mutande tolte e la veste alzata mentre quell'altra ragazza riferisce che aveva lasciato il suo corpo morto sul tavolo della cuscina con i vestiti e le mutande e di averla ritrovata il giorno dopo nel momento della seppellitura senza le mutande e con la sottoveste alzata per cui questa diciamo è una testimonianza molto crude perché probabilmente fu violentata addirittura dopo la morte o comunque dopo essere stata ferita a morte per cui fra l'altro il suo fratello poi nel dopoguerra sposerà una delle la sorella della una delle sorelle delle vittime fra l'altro come una sorta diciamo di compensazione e insieme a distruzione anche case depredate tantissime si completamente diciamo che in Padule le pattuglie girano in maniera differente in ogni territorio girano in maniera differente perché il Padule è composto da tante case coloniche per cui i punti di riferimento sono queste casa Silvestri casa Malucchi casa Simoni e in ogni in ognuna di queste case girano in maniera diversa perché abbiamo ad esempio al casotto dei pescatori situato a 150 metri da casa Silvestri al casotto dei pescatori uccidono solamente sei uomini adulti mentre a casa Silvestri uccidono anche le donne e i bambini come a casa Simoni come a casa Malucchi nella zona di Stabbia che è Cereto Guidi invece uccidono maggiormente gli uomini nella zona di Punte Bugianese uccidono invece donne e bambini per cui abbiamo una complessità anche di comportamenti degli stessi tedeschi e delle stesse pattuglie in Padule fra l'altro in Padule non si addentreranno mai all'interno della della palude dove c'è l'acquitrino dove ci sono i canneti alti perché tenevano una presenza partigiana per cui loro sono tornati in gronda e in gronda hanno acciso solamente civili ecco una cosa dove tu hai posto diciamo l'attenzione e che mi è piaciuta perché normalmente non se ne parla è il rapporto tra civili e alleati perché di solito l'immaginario collettivo è di vedere il passaggio delle alleate con il carri armato che tutti tutti in festa eccetera ma in realtà non erano semplicissimi i rapporti con i civili a volte anche piuttosto tesi sì da racconto infatti si evince ad esempio la distribuzione di cioccolata di sigarette di altri oggetti che non si trovavano comunemente in queste zone ma analizzando le fonti io infatti ho parlato di difficile transizione perché analizzando le fonti ci sono stati scontri sia con i civili sia anche con l'amministrazione con la liberazione in sostanza gli alleati arrivano e cercano di imporre diciamo il proprio governatorato ma nel frattempo gli italiani si riorganizzano perché vengono nominate le giunte comunali vengono nominati i sindaci che sono espressione poi del CLN di chi ha fatto la resistenza per cui abbiamo rappresentanti comunisti socialisti del partito d'azione democristiani e questo universo complesso talvolta andava d'accordo diciamo e talvolta no ad esempio a Monsummano ha riscontrato alcune casistiche di di violenze ad esempio in una trattoria dove gli alleati erano andati a mangiare poi cercarono di asportare alcuni beni mi sembra un prosciutto e altri 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 alimenti e il proprietario cercando di difendersi è stato colpito violentemente da uno di questi alleati oppure dai calzaturifici della zona portarono via diverse macchinari e diverse calzature infatti ci sono le richieste di danni all'interno degli archivi comunali del territorio danni che probabilmente poi nessuno ha più ripagato chiaramente e un'ultima esperienza significativa per Monsummano è stato l'arresto anche del sindaco di Fuglio Zamponi è stato arrestato 15 giorni per sovversione diciamo perché lui comunista e i giovani comunisti avevano affisso in città un manifesto che era provito a affiggere manifesti senza autorizzazione ma questo manifesto non sarebbe mai stato approvato in cui dichiaravano che le donne di Monsummano non avrebbero dovuto comportarsi con gli alleati come si comportavano in passato con i tedeschi probabilmente era una frecciatina a qualche donna che si era o prostituita o aveva ottenuto favori dai tedeschi per cui la loro intenzione era quella di informare che non avrebbero dovuto comportarsi anche con gli alleati in questa maniera e gli alleati cosa fecero? Arrestarono il sindaco no mi veniva in mente questa storia della parte comunista che non era molto amata dagli alleati e mi viene in mente tra l'altro un racconto che mi ha fatto Dario del Sordo che era un partigiano di Empoli che è stato a combattere sulla linea gotica che tra l'altro sono due anni oggi che è morto e dove racconta dice che noi facevamo la guerra insieme agli alleati insieme agli americani però alla fine quando fu il momento diceva andate via prima possibile perché siete comunisti e allora mi torna perfettamente una volta conclusa la guerra per il nostro territorio nel settembre del 44 le formazioni partigiane furono smobilitate e furono anche fu richiesto di restituire anche le armi morti invece le nascose invece che restituirle senti il rapporto di appunto tra alleati e con le divisioni Stella Rossa Corallo eccetera sì a Mozumano erano presenti queste tre formazioni partigiane che agivano nella zona nel territorio cittadino e la Corallo la Faliero e la Stella Rossa diciamo che quella che maggiormente aveva rapporti con gli alleati era la Corallo che era di ispirazione azionista e quindi legata ai gruppi di giustizia e libertà era legata anche all'undicesima zona i gruppi appunto di Pippo di Marico Ducceschi della zona Pennini-Calucchese erano legati alla Silvano Fè di Pistoia tutti i gruppi che facevano bene o male riferimento al partito d'azione a giustizia e libertà che erano coloro che poi avevano rapporti anche con gli alleati per cui la Corallo fornì diverse informazioni perché informò sulle dislocazioni delle truppe delle fortificazioni nei pressi della linea gotica chiaramente le formazioni si spostavano non è che restavano solamente in città per cui avevano anche questo tipo di informazioni e oltre a questo svolgevano anche attività di sabotaggio e di raccolta armi diciamo che però le formazioni monzumanese non svolsero mai attività diretta contro i tedeschi per non mettere a repentaglio i cittadini ma si limitavano a questi piccoli atti di sabotaggio ad esempio e inserire sabbia all'interno dei raccoglitori di benzina ecco dei camion ad esempio per colpirli per renderli indisponibili per alcuni giorni oppure per tagliare i cavi telefonici e poi questo servizio di raccolta di informazioni con gli alleati e con gli alleati prendono anche contatto poco prima della liberazione di monzummano monzummano viene liberato il 4 settembre e già il 2-3 settembre prendono contatti con le prime pattuglie alleate che si trovano nella zona di Larciano gli alleati arrivano dall'Arno e liberano tutto il territorio praticamente circostante Cerreto Guidi Ramporecchio Larciano e poi monzummano e è nulla ecco questi sono i rapporti diciamo fra partigianato e alleati senti che idea ti sei fatto personalmente della RSI perché so che hai un'idea ben precisa sì perché da quello che ho letto nelle carte l'RSI allora bisogna secondo me smontare la stereografia passata che relega l'RSI come stato fantoccio agli ordini della Germania nazista perché sì è vero che c'era comunque l'ombra della Germania il controllo ma l'RSI aveva enorme potere decisionale perché sul territorio poteva decidere le singole persone le singole amministrazioni potevano decidere come portare avanti certi tipi di politiche faccio un semplice esempio l'arresto e la deportazione degli ebrei iniziano nel settembre del 43 quando arrivano i tedeschi sul territorio però nonostante la presenza tedesca poi sono gli stessi italiani a compiere queste deportazioni perché gli ordini arrivavano dalla questura italiana venivano emanati emanate le liste degli ebrei presenti sul territorio venivano mandate alle stazioni dei carabinieri alla Guardia Nazionale Repubblichina e nei singoli comuni poi erano i carabinieri nella Guardia Nazionale Repubblichina a svolgere le retate per l'arresto degli ebrei a volte utilizzavano anche i soldati tedeschi per queste retate altre volte venivano esclusi erano solamente gli italiani a svolgere le retate retate che anche a Monsumano colpirono diverse persone a Monsumano sono la vicina gli ebrei arrestati tra cui anche dei bambini di 13-5 anni vengono rinchiusi a Monsumano poi è un caso particolare perché sono presenti le carceri a Monsumano e furono rinchiusi arrestati a novembre del 43 rinchiusi fino a marzo del 44 in queste carceri poi portati a Pistoia in carcere a Pistoia poi portati a Firenze alle murate e dalle murate di Firenze furono spediti a Fossoli nel campo di internamento e di smistamento da Fossoli partirono con i treni in direzione Auschwitz e badate bene gli italiani sapevano benissimo che gli ebrei finivano nei campi di concentramento perché i documenti dell'epoca di scontrati diversi parlano proprio di campi di concentramento per ebrei per cui diciamo che le scelte potevano essere ben diverse ecco diciamo non è stato solo un ruolo così tra virgolette passivo e questo è un po' l'immagine che che traspare hai parlato di deportazioni di ebrei ma ecco gli internati militari sì gli internati militari anche questa è una delle pagine più particolari della storia italiana perché con l'armistizio abbiamo lo sbandamento totale dell'esercito gli ufficiali non sanno che ordini dare ai propri soldati e i soldati decidano diciamo in autonomia cosa fare dopo l'8 settembre perché si ritrovano di fronte i tedeschi che prima erano loro alleati e poi iniziano a catturarli per cui abbiamo dei soldati italiani che scappano dei soldati italiani che entrano a far parte delle truppe partigiane altri soldati che si nascondono altri che cercano di tornare a casa e nell'ambito di questa complessa operazione vengono arrestati i soldati tedeschi arrestano circa 600.000 soldati italiani un numero veramente impressionante enorme vengono catturati e portati nei campi di concentramento tedeschi a Monsumalo fra l'altro ho trovato anche delle storie curiose in senso negativo perché ad esempio Maggiorino Fidi uno dei ragazzi uccisi nel padulio di Fuceppio tornò dalla Jugoslavia nel settembre del 43 con mezzi di fortuna a piedi ecco con quello che si trovava all'epoca riuscì a tornare dalla Jugoslavia per poi morire in padule oppure altre tre vittime di stragi sempre sul territorio Laserdi Agostini e Giovannelli anche loro rientrarono proprio dopo l'8 settembre dall'estero e sono notizie purtroppo curiose e anche particolari e anche Walter Riozzelli futuro sindaco di Monsumano tornò tornò come soldato appunto dopo l'8 settembre fra l'altro i soldati sarebbero dovuti andare alle caserme dei carabinieri a dichiarare il proprio rientro perché l'RSI obbligava chi rientrava alla propria casa a riarrollarsi proprio nell'RSI moltissimi la gran parte non lo fece molti si nascosero oppure entrarono a far parte delle bande partigiane e anche a Monsumano abbiamo il commissario prefettizio di Monsumano il commissario prefettizio era quello chiaramente che gestiva l'ordine che comandava in quel periodo che ha un ruolo particolare perché non diciamo non persegue non perseguita i soldati rientrati dopo l'8 settembre perché questi soldati erano tutti giovani perché erano delle leve del 22 del 23 del 21 del 24 poi successivamente qualcosa anche del 25 poi ci saranno i bandi nel 44 e non li perseguita perché era stato loro professore alle scuole di Monsumano lui era il suo professore quindi in questo caso sapeva mi ha raccontato un partigiano sapeva benissimo dove abitavamo però non c'è mai venuto a cercare mentre in altri casi abbiamo casi anche di arresti di uccisioni anche a Pistoia la fortezza Santa Barbara nel marzo del 44 venne l'assassinato quattro disertore e remitenti alla leva per cui ecco sono vicende complesse che poi si esoriscono diciamo nel momento in cui i singoli poi prendono determinate decisioni perché abbiamo differenti casi naturalmente da un'altra da un territorio all'altro anche se poi possiamo rintracciare una casistica comune a livello nazionale tocco anche leggermente un altro aspetto di cui si parla sempre poco quando si parla di quel periodo che è l'operato del nostro esercito al di fuori dei confini nazionali anche noi abbiamo fatto qualcosina diciamo di non bellissimo esatto diciamo che anche storiograficamente gli ultimi decenni hanno portato alla ribalta con gli studi del Boc ad esempio che fra l'altro è morto di recente e con altri studi importanti anche di Focardi di altri storici hanno riportato alla ribalta le responsabilità degli italiani all'estero si parte già dagli anni venti perché già dagli anni venti nel territorio al confine con la Jugoslavia si opera un forte antislavismo per cui si incendiano le sedi delle biblioteche e dei principali enti di cultura di cultura jugoslave si opera una italianizzazione dei nomi si opera con violenza nei confronti degli slavi poi violenze si rintracciano nel 35 e nel 36 in Etiopia vengono utilizzati gas tossici si uccidono migliaia di civili ci sono massacri anche a livello di numeri come quello di Marzabotto anche su 2000 civili uccisi in un singolo in un singolo eccilio e questi massacri resteranno poi impuniti e successivamente le responsabilità italiane ricadranno anche in Jugoslavia con l'occupazione nel 41 della Jugoslavia e anche in Russia poi con le operazioni che si svolgono proprio sul fronte orientale anche lì ci saranno violenze saccheggi stupri dell'armata italiana che avanza insieme a quella tedesca prima chiaramente di trovare la completa disfatta e di essere costretta a ritirarsi ecco secondo te quando io vado in giro a portare documentari mi capita nelle scuole c'è sempre noto un grosso vuoto di conoscenza del periodo di questo periodo di cui si sta parlando secondo te e quindi te lo chiedo come direttore dell'istituto cosa si potrebbe fare di più anche a livello didattico o anche in altri settori per accelerare diciamo migliorare la conoscenza di questi fatti ma secondo me intanto si deve partire da un incremento cioè diciamo che da una parte è lo Stato che deve farsi garante dello studio del novecento nella scuola e secondo me dovrebbe farsi garante anche di un aumento delle ore di storia nelle aule scolastiche invece di una diminuzione e di una modifica poi dei programmi scolastici quando ho fatto io l'elementare e le medie in quinta elementare si faceva il novecento e in terza media si rifaceva il novecento adesso invece se non sbaglio dalla prima elementare alla terza media svolgono un programma progressivo che arriva solamente in terza media il novecento e oltre questo secondo me occorre appunto riformare anche la storia nelle superiori perché si studia a mio avviso troppo la storia antica la storia romana la storia medievale senza naturalmente senza però è te Matteo aspetta un attimo mi senti ti sento sì Matteo sei sei andato sei mi senti mi senti mi senti io io ti vedo poco ma ti sento qualcosa sento sto controllando ma il mio internet dovrebbe funzionare bene allora aspetta provo un attimo ecco ora ora sta tornando riprendi da discorso scolastico dicevo che si arriva a affrontare il novecento solamente in quinta superiore e progetti di approfondimento vengono svolti solamente grazie all'interesse degli insegnanti come ti sarà capitato anche a te di andare nelle scuole anche tu come istituto scogliamo tantissimi progetti di approfondimento sull'attività 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 sull'esistenza e anche sull'attività pubblicana però è Matteo svanisci aspetta un attimo facciamo un tentativo aspetta ora ti vedo bloccato io invece ecco allora ora ora ti rivedo ti rivedo vai riprova vediamo se si finisce sto discorso che poi siamo all'ultima domanda perché finiamoci certo e poi niente mi senti qui ci si ricollega poi anche ai valori della carta costituzionale che a scuola sono affrontati appunto anche questi per volontà dei singoli insegnanti o su progetti d'approfondimento per cui secondo me gli interventi con i giovani da fare sono molti bisogna bisogna incrementare anche gli istituti storici della resistenza fanno tanto lavoro con le scuole portare avanti i valori della carta costituzionale spiegare ai ragazzi cosa vuol dire democrazia libertà diritti civili cosa vuol dire poter andare a votare chiaramente tutto quanto durante il fascismo poi non era permesso e anche secondo me il periodo storico del fascismo viene affrontato poco nelle scuole ti dirò anche alle triennale anche alle triennali delle universitarie in realtà questi periodi vengono affrontati poco o in maniera sommare ecco ci sono pochi insegnamenti che che vengono svolti la maggior parte degli insegnamenti su particolari periodi storici invece sono le magistrali delle scienze storiche all'università per cui ecco ci occorrerebbe un cambiamento a livello nazionale su questo ti faccio un'altra domanda prima di di avviarci verso la chiusura una domanda più diciamo di stampo sociologico ecco gli ideali di ieri quindi in un periodo storico lontanissimo da questo con tutto un'altra un altro stile di vita eccetera rispetto ad oggi perché è una domanda che questa è ricorrente che mi capita dice ma succedesse oggi cosa cosa verrebbe fuori domanda veramente banale però che faccio volentieri a te che ti sarai sentito fare più di una volta ma è una domanda un po' particolare cioè quello che chiedi diciamo cosa succederebbe oggi nel caso di con il benessere rispetto esatto il cismo senti secondo me il problema è che anche oggi ci sarebbe una parte di popolazione indifferente come lo era stata all'epoca e una parte di popolazione indifferente mentre un'altra parte di popolazione più attiva più consapevole che è anche quella che vediamo oggi alle tante iniziative alle manifestazioni che vediamo nelle scuole che è quella che cerca di portare avanti poi i dettami della carta costituzionale che in sostanza sono quelli che ci garantiscono poi il benessere a cui siamo abituati oggi perché come dicevo prima i valori democratici i valori i diritti civili la libertà di stampa la libertà di associazione il libero pensiero sono tutti valori che sono stati garantiti dalla costituzione una costituzione poi più volte calpesta poi il problema di oggi è anche quello della classe politica naturalmente perché la classe politica parte della classe politica cioè chiaramente non facciamone tutta l'erba un fascio utilizza la costituzione solamente per promuovere determinati diciamo per avere diciamo a certi obiettivi quando viene citata la costituzione mentre la maggior parte di volte la costituzione viene lasciata lì in un angolino e accantonata è il lavoro forte che bisogna fare secondo me oggi anche noi come istituti tutti gli enti le ampi le associazioni varie è il lavoro che bisogna portare avanti con l'aiuto anche della parte politica consapevole di quanto è stato fatto e del valore di questa di questa carta perché c'è anche una parte politica consapevole di tutto questo noi con l'istituto si collabora con diverse amministrazioni che che tengono ecco a certi tipi di valore ecco Matteo e allora hai progetti in mente nuovi libri o qualcosa del genere stai lavorando a qualcosa senti per il momento a nuovi nuovi libri no nuovi progetti con l'istituto storico sì stiamo portando avanti diversi progetti uno particolare sulle carte dell'antifascismo ovvero abbiamo un borsista che sta recuperando i fascicoli al casellario politico centrale degli antifascisti pistoiesi è un lavoro a cui teniamo molto e che stiamo cercando di cercheremo un po' di promuovere con pubblicazioni e con mostre poi stiamo portando avanti un altro progetto importante sull'influenza spagnola che è capitato proprio a cavallo del covid nostro malgrado perché era un progetto a cui stavamo già lavorando in precedenza e svolgeremo ora a novembre un seminario e poi un convegno il prossimo anno oltre ad aver pubblicato anche un volume l'anno scorso e poi è nostra intenzione pubblicare tre borse di studio è un'idea che ci è venuta di recente in istituto grazie a dei fondi che abbiamo ottenuto dal Nibact siamo stati uno degli enti più finanziati in Italia grazie alle nostre attività è stato proprio un successo siamo ottavi nella tabella con oltre 300 enti inseriti accidenti a finanziamento esatto e ci è venuta in mente di finanziare tre borse di studio in cui le tematiche stiamo cercando di individuarle naturalmente all'interno del consiglio direttivo ma borse di studio rivolte a ragazzi a giovani per lo studio di alcune tematiche legate al Pistoiese è venuto fuori ad esempio come tema la resistenza gli esuli gli esuli Giuliano Dalmati che si sono stabiliti anche a Pistoia la scia e la deportazione il 68 gli anni 70 per cui dobbiamo fare una cernica poi e promuovere alcuni di questi temi comunque complimenti e invito tutti gli spettatori ad acquistare se non l'hanno ancora fatto Guerra Totale in Val di Nievole il libro di Matteo Grasso veramente veramente interessante sotto ogni punto di vista Matteo io è stato un grande piacere perché ti ripeto parlare con qualcuno di più giovane e quando io addirittura mi considerano giovane me che per me è un piacere incredibile spero si possa fare ancora nuovamente degli incontri quando quando vuoi insomma io lo faccio con grande piacere e in bocca al lupo per il lavoro a te a tutto l'istituto perché state facendo veramente grandi cose insomma e lo dimostra quello che hai detto grazie mille Stefano e il mio ringraziamento va a te per aver organizzato questa giornata e questa presentazione del volume tra l'altro è la prima presentazione che svolgo perché per le varie vicende legate al covid appunto non siamo riusciti a fare nulla in precedenza e nei prossimi mesi ecco organizzeremo anche sicuramente qualche presentazione in presenza anche qui sul territorio a Monsummano a Larciano e possibilmente anche a Pistoia per cui un ringraziamento fortissimo va a te e sicuramente ci incontreremo anche nelle prossime iniziative legate ad altre come succede più di una volta quindi io voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito e ancora un saluto a te Matteo e a presto e ciao a tutti un saluto a tutti